Presidente, il conto alla rovescia ormai è quasi concluso, è tutto pronto per questa nuova edizione della UNESCO City Ramarathon? Insomma è tutto pronto, la conferenza stampa è andata bene, ho visto grande partecipazione, soprattutto grande coinvolgimento sia degli organi preposti a questa maratona, sappiamo benissimo quelli che sono l'ordine pubblico, la protezione civile, la sanità e naturalmente anche i vari rappresentanti degli organi pubblici, come dicevo, però adesso ci manca la settimana noi ci auguriamo che durante la settimana riusciamo anche a completare alcune organizzazioni perché non tutto abbiamo finito ad esempio già il fatto di questi due eventi che abbiamo messo collaterali del 29 con le scuole alla mattina e poi la sera con Mauro Ferrari e con la Paola Ferrari che sono entrambi i nostri testimoni, non dimentichiamo che la Paola Ferrari è la testimonia della Maratona Rosa, già il secondo anno e Mauro Ferrari è il testimone a fine della prima edizione dell'UNESCO City Marathon, quindi questi sono due eventi che sicuramente qualificheranno ancora oltre a questa maratona abbiamo messo in cantiere un sacco di eventi all'interno, credo che tutti quanti contribuiscono nella loro misura per arricchire ancora, quest'anno le previsioni abbiamo sicuramente in tutti i vari eventi abbiamo non meno da un 20% a un 30% di aumento di partecipazione, questo è importante la partenza sarà mattina da Cividale, quindi partiranno prima il 2 a troncio le biciclette e poi continueranno con la parte di corsa a piedi da Palmanova ad Aquileia subito dopo sempre da Cividale partiranno i roller, oggi hanno detto che sono oltre 300 a partecipare quindi un bel numero, dopo partirà la maratona vera e propria quindi un'altra partecipazione è un'altra partecipazione, questo è un'altra partecipazione